Eccoci qua. A pochi giorni dall'uscita del browser, il primo video di aggiornamento, perché ho aggiunto una funzione in più al programma. Al di là della piccola variazione grafica di tasti qui in alto, ho aggiunto una sezione che possiamo definire planner o gestire di appuntamenti o diario. Praticamente, cliccando sulla voce diario e appuntamenti, possiamo inserire, gestire, inserire degli appuntamenti che verranno poi riportati. Se vediamo qua, infatti, questo tasto rosso, ci ricorda l'avvio del browser che c'è un appuntamento memorizzato per oggi. In pratica, selezionando da questo calendario la data che ci interessa l'appuntamento, ci chiede se vogliamo inserire un nuovo appuntamento. Sì, scriviamo qua il testo dell'appuntamento, memorizza. Ok, indietro. Possiamo cambiare, andare avanti e dietro, i numeri con le date, con il numero un po' più scuro. E' praticamente dove c'è già memorizzato un appuntamento che possiamo modificare o cancellare. E praticamente, all'avvio del browser, se abbiamo un appuntamento nel giorno, ci apparirà questo tasto qua rosso. Facciamo una cosa, magari lo cancelliamo quello di oggi per vedere la differenza. Vuoi vederlo? Sì, appuntamento di oggi. Ok, cancella. Indietro. E volendo possiamo anche utilizzare questa funzione come una sorta di diario, diciamo, per memorizzare quello che accade, insomma. Naturalmente è molto basilare come planner, quindi è una versione entry level. Poi, naturalmente, se è una funzione che interessa, che viene utilizzata parecchio, magari la implementerò con funzioni più approfondite, insomma. Adesso ho cancellato l'appuntamento di oggi. Se andiamo a chiudere e riavviare il browser, vediamo che... Infatti qua non appare più quel tasto rosso che ricorda l'appuntamento di oggi. E' molto semplice da utilizzare. Ok, al prossimo video. Ciao ciao. Grazie.